Per gli ideatori abbiamo imparato molto in questi anni, non era proprio così scontato, ovvero il web 2.0 se vogliamo che ci aiuti deve basarsi su due valori, che non sono solo dei valori tecnologici, ma sono proprio dei modi di fare le cose che anche le nostre organizzazioni devono adottare, accessibilità e usabilità. Per dare un'occhiata ai contenuti basta su Twitter cercare l'hashtag AyaSocial e già si vede di cosa si è parlato e di cosa si parlerà. Bene, arriviamo al blogger Luca Conti, pandemia, non necessiti di presentazione, però magari un piccolo escluso ce lo fai, mi infaccio un po' anche a quello che hai pubblicato in questi giorni subito, dove hai fatto un po' la classifica delle organizzazioni non governativi a livello internazionale, per vedere un po' invece qual è il piano italiano da questo punto di vista.